Da questa palestra di Barletta al Palaruffini di Torino, è lì che sabato 26 gennaio Gabriele Caputo, allievo 18enne della Pro Combat, sarà in scena nell'arco di Thai Box Mania, una delle più importanti manifestazioni dell'anno organizzate dalla Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thai Savate Shoot Box. Ci stiamo preparando per questo appuntamento con vari allenamenti tipo potenziamento ai pesi oppure corsa, fiato, sparring, varie palestre. Era un grande obiettivo per noi questo Thai Box Mania e spero di dare il meglio. Organizzata dal maestro e pluricampione mondiale Carlo Barbuto e da Alex Negro, Thai Box Mania è una manifestazione sportiva internazionale nella quale atleti provenienti da tutto il mondo gareggiano tra Thai Box, Kick Boxing, K1 e MMA per Caputo, l'occasione di porre il punto esclamativo su una passione coltivata in famiglia. Significa tanto perché è una disciplina che mi ha dato qualche soddisfazione e questa all'inizio mi si insegna da mio padre perché è lui che mi ha portato qui in palestra e poi grazie al maestro Francesco Curci sono arrivato a questo evento. Ad accompagnare il 18enne Barlettano nella trasferta del Palaruffini sarà il maestro Francesco Curci. Nelle sue parole c'è l'attesa per l'approdo su una vetrina nazionale ma anche la voglia di non nascondere le ambizioni del weekend. Siamo onorati di partecipare, naturalmente per parteciparvi abbiamo bisogno di buoni atleti quindi diciamo che non è facile partecipare a eventi di questo calibro. La Pro Combat Barletta oggi riesce a dare anche questi match ai ragazzi. Gli obiettivi quali possono essere invece in quel di Torino? Sicuramente vincere facendo un bel match dando spettacolo in modo tale da lasciare così l'impronta su quel ring in modo tale da essere comunque richiamati l'anno dopo.